Contenere i prezzi dei beni di prima necessità alimentari e non è l'obiettivo del cosiddetto trimestre anti-inflazione, l'iniziativa del governo che punta a contrastare la spinta inflazionistica e a evitare anche fenomeni di speculazione cui stiamo assistendo dal periodo di lockdown causa Covid. In pratica le attività che aderiscono all'iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti, non aumentandoli sino al prossimo 31 dicembre. I prodotti sono riconoscibili grazie all'esposizione di un logo con i colori della bandiera italiana e la scritta trimestre anti-inflazione appunto. Tra gli esercizi commerciali anche le farmacie, secondo la federazione di categoria Federpharma nella provincia di Barletta Andrea Trani quasi la metà delle farmacie ha aderito all'iniziativa. Si tratta chiaramente di prodotti nel nostro settore che non riguardano i farmaci, tanto più se i farmaci in convenzione, ma riguardano tutto quello che è il mondo extra farmaco a cominciare da tutti i prodotti per i bambini, quindi l'alimentazione del bambino, tutti i prodotti per l'igiene personale, tutti i prodotti che possono essere anche parafarmaci, ma anche i dispositivi, esempio anche i prodotti elettromedicali. Diciamo che in questi primi giorni si inizia a conoscere l'iniziativa e iniziano a chiedere se la farmacia ha aderito e quali sono i prodotti. Evidentemente la farmacia può preparare un paniere di prodotti a propria scelta sui quali si impegna a non applicare aumenti o in alcuni casi anche applicare sconti. Per scoprire le attività aderenti all'iniziativa basta consultare il sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e selezionare la regione e la provincia di appartenenza.